Inizierò parlando dell'amore. Gli esseri umani hanno bisogno di amare e di sentirsi amati. Provare amore nel nostro cuore e percepire amore dalle altre persone ci fa sentire che la nostra vita ha un valore. Per questo sentimento ci sentiamo motivati a vivere, a crescere, a progredire, a relazionarci con gli altri, a svilupparci come esseri umani. Il valore che diamo al fatto che siamo vivi alla nostra vita è molto legato alla nostra capacità di sentire l'amore che possiamo proiettare verso gli altri, verso la vita in generale, verso le nostre passioni, verso qualsiasi cosa che ci motiva e di sentire che a nostra volta siamo anche noi una fonte di motivazione per le altre persone. Da bambini l'amore è qualcosa che scorre naturalmente attraverso di noi, lo trasmettiamo agli altri spontaneamente. Man mano che cresciamo, che facciamo esperienze, che osserviamo le contraddizioni dei nostri genitori o degli adulti che ci circondano, ci rendiamo conto che l'amore non può fare tutto e ci sembra che ci siano cose che hanno più valore dell'amore. A poco a poco diventiamo disincantati dall'amore. L'idea che l'amore può fare tutto viene interrotta nel momento in cui viviamo un grave trauma. Se veniamo abusati, se veniamo maltrattati, se veniamo abbandonati, se muore la mamma, il papà, se non veniamo curati con amore, se siamo rimproverati troppo. Si genera così una ferita interiore di mancanza d'amore e cominciamo a diffidare dell'amore, cominciamo a pensare che l'amore porta dolore, che il dolore è più forte, più potente dell'amore. Le persone agiscono spesso più per evitare il dolore che per ottenere l'amore. La vita in qualche modo va strutturata, i legami hanno bisogno di un ordine, ma quando da bambini per esempio riceviamo l'ordine di obbedire proviamo una certa resistenza, tutti conoscono i famosi no del bambino. Viviamo l'ordine come arbitrario, come se non fossimo più liberi, come se l'amore non potesse più influire nella nostra vita in modo naturale, ma dovessimo adattarlo alla logica della famiglia, della società, della cultura. Tutto questo ci fa sentire che l'amore ha perso la sua magia, ha perso la sua forza e comincia a mancare e pensiamo che dobbiamo lavorare duramente per raggiungerlo. In certi casi, come abbiamo visto prima, l'amore diventa qualcosa di traumatico addirittura, qualcosa di doloroso da cui dobbiamo proteggerci. Per proteggerci instauriamo due meccanismi di difesa. Prima neghiamo che il dolore esista, rimaniamo nello stato infantile del bambino innocente, diventiamo sognatori, super ottimisti. Per chi conosce l'enneagramma, qui ritrova l'enneatipo 7. Esageriamo una finta felicità dietro cui si nasconde quel dolore che non vogliamo vedere. Indossiamo la maschera della persona felice, della persona di successo. Spesso questa negazione del dolore porta a sintomi fisici, a malattie e il nostro corpo esprime ciò che noi non osiamo riconoscere. Un'altra modalità è invece quella di identificarci con il dolore. Incorporiamo il dolore nella nostra personalità, nel nostro modo di essere, nel nostro modo di concepire il mondo. Questo meccanismo provoca una tendenza a sentirci vittime. Siamo vittime di quella persona, siamo vittime della famiglia, siamo vittime del destino, siamo vittime di ciò che pensiamo che abbia causato il nostro dolore. La tendenza all'opposto della vittimizzazione è invece quella di incolpare, incolpare noi stessi o incolpare gli altri di ciò che ci accade. Da bambini iniziamo a incolparci anche per cose che non sono colpa nostra. I nostri genitori litigano e noi ci sentiamo in colpa, pensiamo che sia colpa nostra. Questo senso di colpa serve a proteggerci dal sentirci vittime delle persone che amiamo, soprattutto di mamma e papà. Da bambini non abbiamo le risorse per fare diversamente perché siamo vulnerabili, siamo sensibili, siamo emotivi e tutto ci colpisce molto. Di fronte all'ordine stabilito ci muoviamo secondo tre schemi. O ci sottomettiamo, diventiamo bambini molto obbedienti, eseguiamo quello che ci viene detto perché siamo educati, siamo indottrinati, accettiamo che le cose siano in un certo modo perché ce lo dice qualcuno che ne sa molto più di noi, rispettiamo l'autorità. In questo schema possiamo poi continuare anche da adulti senza mettere in discussione ciò in cui abbiamo creduto, quindi abbiamo creato delle convinzioni, delle credenze e non concepiamo che le cose possano andare o essere diverse da come ci hanno insegnato. Oppure un altro schema è quello del ribelle, ci ribelliamo all'ordine costituito, quindi finiamo per essere semplicemente contro questo, contro quello, contro quell'altro. Instauriamo un nuovo ordine che è quello di andare contro l'ordine. Così anche nella ribellione c'è un'obbedienza, c'è un'obbedienza a ribellarsi a tutto ciò che è stabilito. Tutti conosciamo quelle persone che sono molto ribelli, che fanno fatica ad adattarsi alle regole, a qualsiasi tradizione, a qualsiasi atto di buona educazione. Ci sono persone che per ribellione non sono mai puntuali, non odiano avere delle cose imposte, un orario imposto. Per altre persone la ribellione va attraverso l'uso del denaro, spendono troppo denaro, lo usano in maniera poco consapevole. La ribellione di alcune persone arriva attraverso il corpo, non si prendono cura di se stessi, mangiano male, dormono male. Altri si ribellano a qualsiasi ordine costituito, a qualsiasi ordine che venga imposto loro. Quindi spesso dobbiamo bilanciare tra parti di noi che sono diventate iperubbedienti all'ordine stabilito e altre parti che sono diventate iperribelli. Così abbiamo una sorta di lotta interna dove ci sono aspetti in cui siamo molto obbedienti, altri aspetti in cui siamo molto disubbedienti e molto ribelli. Il terzo schema è quello di imporre noi i nostri ordini e le nostre regole. Anche questa è una specie di ribellione ma qui non siamo anti ordine ma siamo noi a imporre gli ordini agli altri e gli altri li devono rispettare. In alcuni aspetti della nostra vita siamo così, pensiamo di aver ragione su qualcosa e imponiamo agli altri di darci ragione. Vogliamo che gli altri facciano a modo nostro. Ci muoviamo su questi tre schemi finché non prendiamo coscienza di un modo di rapportarci all'ordine in modo sano, equilibrato, cosciente, sensato. Per quale motivo? Per essere in grado di amare in modo sano, consapevolmente, senza ferire noi stessi e gli altri.